Fino a una viva chiacchierata RTL ha ribadito che a Napoli serve maggior vigilanza, servono più uomini, ha chiesto al Ministro Salvini direttamente tramite la radio proprio di poter pensare di più a Napoli in questo momento. Mi riferivo in generale, non solo a Napoli, siccome si fa tanta propaganda inutile, demagogia, si cerca di portare il campo sul conflitto tra persone, invece la sicurezza aumenta se c'è il controllo democratico attraverso le forze di polizia. Salvini adesso non è solamente un parlamentare, è Vicepremiere e Ministro dell'Interno, quindi da chi fa il Sindaco da 7 anni e ha fatto il magistrato per 15 anni chiedo al Ministro dell'Interno di rafforzare gli organici delle forze di polizia, altrimenti ci troviamo di fronte ad altro che non è particolarmente utile e quindi sapendo che questa è una richiesta condivisa anche da molti sindaci, perché il tema della sicurezza non è solo a Napoli, anzi Napoli statisticamente sta in miglioramento anche rispetto ad altre città, ma è un tema dove mi piacerebbe avere un confronto col Ministro dell'Interno, così come sul tema delle autonomie. Ricordiamoci che il Ministro dell'Interno non è solo il Ministro delle forze di polizia, è anche il Ministro delle Libertà Civili, il Ministro delle Autonomie e quindi da Napoli forte la richiesta di autonomia, visto che lui è stato sempre un sostenitore del nord contro il sud, del nord che si deve separare, degli egoismi. Noi vogliamo l'autonomia solidale, che è una cosa diversa per costruire un'Italia coesa nella valorizzazione delle differenze. Il Ministro dell'Interno c'è ancora il silenzio del Governo sull'omicidio del bracciante in Calabria. Silenzio indegno ed inquietante.